La crisi non è una livella e dunque non è uguale per tutti. Le spese domestiche fisse si avvicinano ormai al raddoppio, se va bene, eppure non per tutti rappresenta un problema, perché come sempre quando i tempi sono duri, per qualcuno lo sono ancora di più. Se già prima della guerra una famiglia faticava a sbarcare il lunario tra affitti e utenze, da adesso in poi potrebbe non farcela più, consegnandosi di fatto all'abbraccio mortale degli usurai. Per capire quanto sia concreto il rischio abbiamo chiesto alla presidente dell'Associazione Codici, Giovanni D'Andrea, se ha già avuto richieste di assistenza in tal senso. E dopo l'intervista ad Andrea lasceremo parlare Ciriaca di Prospero, che si occupa delle conciliazioni nell'Associazione Codici e che ci spiega come leggere correttamente una bolletta, quali sono le informazioni preziose che vi troviamo, ma anche quelle che, guarda un po', non riusciamo a trovare e non certo per colpa nostra. Da qualche mese a questa parte le richieste di finanziamenti, di mutui per pagare le bollette sono aumentate di piccoli prestiti, non parliamo di finanziamenti ad alto livello, ma di piccoli prestiti sono aumentate, non solo, ma vengono qua cittadini che non riescono a pagare le bollette perché sono triplicate, in qualche caso quintuplicate, sia quelle del gas, sia quelle della luce e anche quelle dell'acqua. Quindi viviamo un periodo, ma d'altronde questo è risaputo, non lo devo dire io, viviamo un periodo di grossa crisi e per il futuro forse sarà ancora peggio. Sicuramente qualcuno ci sta speculando, sia a livello locale che a livello nazionale, ci sono delle grosse speculazioni perché i prezzi, è vero che vi è una guerra in atto in Europa, in Russia, in Ucraina, però è anche vero che i prezzi sia del petrolio, delle forniture di petrolio che delle forniture di gas erano già, diciamo così, calmierati dai vari contratti che si sono fatti anni e anni fa e quindi la speculazione è la prima fonte di questi aumenti. E che cosa ne consegue? Che una larga fascia della popolazione è costretta purtroppo a rivolgersi anche agli usurai, vi sono usurai locali, vi sono usurai organizzati, naturalmente la maggior parte delle richieste che noi abbiamo qui nella nostra associazione sono per il sovrindebitamento, cioè la gente difficilmente viene a denunciare l'usura, in parte perché hanno paura degli usurai e in parte perché sono cose così delicati e non vogliono metterle così in piazza, non vogliono nemmeno venire in associazione a raccontare questi fatti. In questo periodo di grave crisi, in questo periodo eccezionale, lo Stato dovrebbe mettere in atto misure eccezionali, quindi fare una grossa politica di ridistribuzione del reddito, stanziare fondi per ridare vigore al fondo di solidarietà anti-usura. Molte volte il fondo di solidarietà non funziona perché si va alla ricerca di una situazione patrimoniale che non tutti hanno. Forse non tutti sanno che se io mi ritengo usurato e mi rivolgo al fondo anti-usura che mi valuta se concedermi questi fondi per andare a chiudere definitivamente la situazione con l'usuraio, sono fondi che poi devo restituire allo Stato, certo a tasso zero, certo senza interessi, ma se io ho uno stipendio medio-basso, devo pagare l'affitto, devo pagare le bollette, sono anche usurato, sarà difficile offrire delle garanzie come se dovessi chiedere un prestito alla banca, che garanzie posso dare se io sono un usurato? Però se il fondo anti-usura non riesce a superare anche questa mancanza di garanzie da parte del cittadino usurato, mi sembra che è come una banca. Certo, certo, certo. Potrebbe considerarsi quasi una presa in giro perché se lo Stato ti dà 50 mila Euro e tu lo devi rimettere in 120 rate mensili, anche se non ti fa pagare gli interessi, però se tu hai un reddito basso o se tu sei disoccupato, se tu hai un'impresa, sei titolare di una piccola impresa che sta per fallire e se non hai una situazione patrimoniale adeguata, cioè se non hai case, terreni, eccetera, è difficile che tu riesca a rimettere questi soldi. Quindi in questo caso c'è bisogno non solo di ingentivare il fondo, ma anche di creare delle leggi straordinarie che consentano anche dei contributi a fondo perduto, naturalmente, non è che si devono dare a pioggia a tutti. Una ciriaca di Prospero che è proprio la responsabile in questo campo e parliamo di bollette che vogliamo sapere un po' nel dettaglio, perché portiamo un esempio concreto di bollette che nel giro di un anno sono arrivate, una bolletta dell'Enel è arrivata da 77 euro a 120 e questo nel giro esattamente di 12 mesi, perché parliamo di una bolletta di settembre 2021 e di una bolletta di settembre 2022, trattandosi poi di un aumento graduale, 77, 112, 113, 120. Insomma, sembra un po' studiato, eppure l'energia consumata è la stessa, ci pertengo a precisare. Allora, guardi, le devo dire che questa purtroppo è la situazione in cui si trovano oggi quasi tutti gli italiani e dobbiamo dire che la situazione è andata peggiorando dall'ultimo trimestre dell'anno scorso, già sono iniziati gli aumenti, sia di luce che di gas, poi il peggioramento naturalmente è avvenuto poi con la guerra, perché come sappiamo, anzi in questo caso diciamo che è andata anche bene, perché ho visto anche importi che sono stati quadruplicati, c'è aziende che pagavano 4 mila euro, sono arrivati a pagare anche 20 mila euro al mese, quindi veramente diciamo gli aumenti sono stati tanti, sia perché è proprio aumentato il costo del kilowattora dell'energia, e poi un'altra cosa è che in questo caso naturalmente il prezzo, sicuramente sarà un prezzo bloccato, le cui tariffe variano e sono stabilite dall'autorità, perché qui siamo ancora nel mercato tutelato, invece purtroppo ci sono molti cittadini e molti utenti che avevano un contratto indicizzato e quindi hanno avuto veramente che non ha un prezzo fisso e quindi c'è il prezzo vario ogni mese in base al costo sia dell'energia elettrica che del gas e quindi in questo caso veramente gli aumenti sono stati... Ma scoprò anche che su queste bollette che sono cosiddette sintetiche, anche se di fatto sono composte di tanti fogli, non c'è una cosa fondamentale, un'informazione fondamentale cioè quanto pago al kilowattora, perché se ho questa bolletta e so che ho consumato tot dovrei sapere quanto mi costa un kilowattora, peccato che qui non ci sia. Esatto, lei ha perfettamente ragione perché l'autorità negli anni passati ha creato la cosiddetta bolletta 2.0, la bolletta sintetica dove non è indicato il costo del kilowattora e quindi se una persona vuole sapere quanto paga deve richiederlo al gestore, deve chiedere la fattura di dettaglio. Sempre l'autorità che stabilisce le modalità di fatturazione, come le voci da inserire e quindi sì, bisognerebbe assolutamente fare una battaglia per chiedere che questo elemento venga inserito proprio in ogni fattura senza che la richiesta da parte singola del cittadino. Una cosa importante a cui bisogna fare attenzione è controllare sempre che le letture siano reali, perché nel caso in cui ci fossero letture stimate, soprattutto nel caso dei contatori di energia elettrica, potrebbero esserci dei problemi perché il contatore non trasmette le letture oppure ci sono dei problemi perché per l'energia elettrica ormai i contatori sono tutti teleletti e telegestiti, quindi se vediamo letture stimate vuol dire che c'è qualche problema, qualcosa non va, quindi in quel caso conviene sempre fare un'autolettura e verificare se con l'autolettura bene o male stiamo con i numeri indicati e comunque segnalarlo poi al gestore. Perché in realtà poi loro dicono no, no, ma il contatore elettronico non è che veniamo noi a prendere la lettura, non c'è bisogno che mi invii la lettura, questo rispondono se uno chiede, però invece qua abbiamo il modo di verificare se c'è qualche problema sul contatore per quanto elettronico sia? Sì, 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 esatto, perché anche i contatori elettronici si possono rompere, possono avere dei problemi e quindi in quei casi se noi leggiamo stimata allora dobbiamo un po' cominciare a preoccuparci, eventualmente fare un'autolettura, se non la riusciamo a fare perché per esempio può succedere che il display è rotto oppure il contatore è spento, non si accende più, allora lì in quel caso sicuramente bisognerà poi sostituirlo. E che cos'è l'ARERA? È l'autorità dell'energia elettrica e dell'ambiente, quindi è l'autorità che gestisce il settore energetico, quindi stabilisce ogni tre mesi quali sono i prezzi della parte fissa della bolletta e quindi l'autorità che regolamenta tutto il settore. E un cittadino come se ne può servire? Per esempio può utilizzarlo per vedere le varie offerte che ci sono, c'è un portale di offerte dove può andare e inserendo una serie di dati può vedere qual è il gestore che al momento offre il prezzo migliore.